L'eccessivo utilizzo della leva finanziaria, il settore immobiliare vi dice qualcosa? Non è che il settore immobiliare è andato in crisi, è che hanno usato troppo la leva ragazzi, troppa leva finanziaria, non ha un sistema di profilazione del cliente o del prospect. Cosa vuol dire questo? Vuol dire ragazzi che ogni azienda dovrebbe avere un software dove caccia dentro i clienti, dove scrive per ogni cliente che problema ha, dove scrive, dove l'ha conosciuto, dove scrive, si chiama, parola bruttissima, CRM, Customer Relations Management, ok? Però detta in soldoni, voi dovete avere un database dove c'è scritto vita, morte, miracoli dei vostri clienti. Vi dico questa cosa, l'altro giorno ero in unione con il mio socio, apro questa roba qua, noi abbiamo 78.000 nominativi, ok? Nome, cognome, numero di telefono e quant'altro, bene. Dall'11 del 10 ne abbiamo 1.188 in più. Quindi in un mese i nostri contatti sono aumentati di mille e passa. Che è questa roba qua? È questo, no? Il sistema di generare contatti che ci butta dentro, bene. Ho fatto un riunione con il mio socio l'altro giorno e ho detto, Michele qua abbiamo un problema. Il problema non c'è Giuliano, è che qui dentro non vengono scaricati i dati dei nostri clienti relativi a settore, non c'è il settore, e non c'è neanche la problematica che ha quel cliente là. Cioè noi questi dati li raccogliamo, li raccogliamo, ma non sono caricati lì dentro. Quindi il call center che fissa gli appuntamenti per gli agenti, sti dati non li vede. Io ho detto, provi a immaginare se riuscissi a vedere sti dati. Cioè il settore è il problema che il cliente ha indicato, non c'è. Ok? E quindi da là metti a posto. Ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao!